Ragazzi io spero che vi sia piaciuto lo streaming, spero che ci siamo riusciti in questa impresa impossibile e abbiamo fagappato completamente delle partite e niente, speriamo. Dove volete scendere? Solito, 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 va bene, uno mi ha atterrato sotto, ricarico la pistola, vittato due volte, sono nel barn accanto a me. C'è una pistola sua che posso venire agli aiuti. No, 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 ma che sei matto? Uno nella casa qua davanti a me ha 345, metto un piume, un punto lì, un tratto lì. Non c'è solo lì power comunque. Lo so, lo so, lo so. Sì ma ha il tetto. Ho il tetto, io rimango qua. Mi servirebbe un'arma decente, non la pistola. Minchè, io c'è un'arma. Qualcuno lo vede power? Da lì? Da dove siete? Ho una k, ho una k. Sto io, sto io. Bisogna riprendere un'arma. Ma che cazzo è che mi spara dal lato vostro, regà? Merda. Troccato. In quella casa che mi hai detto tu. Da solo, lui. Sto arrivando. Nice. Trocati due, manca uno. Sono dietro il muretto da te. Troccato un altro, sono un fire, ragazzi. Esce fuori dalla porta. L'altro mi ha knockato dalla porta. L'altro mi ha knockato dalla porta. L'altro mi ha tolto il casco, è low. Uno. Trocato fuori. Ho 16 colpi. Test rayon. Sono safe. Trocato dalla porta. No, no, no. No, no, non. Trocato la sua. Trocato. Nice. Bella. Watch da destra, watch da destra. Bella watch. Let's go, boys! Che cazzo gli ho fatto a ste pippe di merda? Madonna, scusate, ho sbagliato io. Tranquillo. Io vi amo a tutti e due, raga. Viamo, bello giuro. Mettiamo a watch che crossfire gli abbiamo fatto. Porca droia, quello stava a correre due pori. Mi sto cagando ancora addosso io. Ma come ti stai cagando addosso? C'ero io là sopra. Ma io devo la Uzi di merda, cioè. Buonissima, Luzzi. Da così. Per causa di te è buonissima, watch in realtà. Eh, sì. Eh, sì. Oh, raga, madò. Voi siete dei pazzi. Voi siete dei criminali. Come dei criminali, oh? In strada, edu! Guardi in strada, edu! Eh, vuolete! Eh, vuolete! Eh, vuolete! Eh, vuolete! Eh, vuolete! Eh, vuolete! Fatto, 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 è morto, è morto. Edu sei spaventato adesso? Sì. Consiglianziatore? Sì. Cazzo, non avevo il mierino, raga. RIP. Avesse avuto il mierino... 8 pari in più, 8 pari, cheekpad, fasciard. E mi serve tipo un red dot. Good luck. Ho un altro moto a sinistra di muretto, raga. Oh, arrivo nuova, dietro di noi! Sono due in macchina, l'ho feriti. Ce le fai a finirli? E tu? Oh, mi sto curando. Vabbè, uno me l'ha rubato. Mi ha rubato una kill, pezzo di merda. Io mi tiro un painkiller. Raga, ho quattro kit medici. Io devo cambiarmi l'elmo. A 52 ed è al 3. Vabbè, me lo tengo, sti cazzi. Io ho bisogno di una veste. Di più di una veste che la vado a prendere. Ragazzi, gente al drop a ovest, 2.55, campo aperto. È da solo, è da solo, è da solo, è da solo, è da solo. Quando si avvicinano gli spari. Dovete guardare qui qui in alto. 2,3, 2.55 a ovest. 2.55. Ittado una volta. Lo vedo, è da sotto a drop a sinistra di spari. Sotto, sotto al drop. Ittado. Non lo posso riprendere lì. No, sta correndo. Guarda, lupa. Lo ittado tre volte, Edu. Non è possibile il ittado, io non ti ho fatto un cazzo. Allora non lo ittado. Io lo ittado tre volte, oh. Non stanno piccando. Vedo un tipo... Ma perché molto per mente sono i compagni di quelli di Edu. Regà, queste sono close. Sono dalla chiesa. Li vedo, li vedo, li vedo, li vedo. C'è un altro, Edu. Con la tuta gialla. Sempre lì. Un altro è scappato dentro chiesa. Uno è knockato. Sì, 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 uno è scappato dentro chiesa. Ah, ti ha preso tra kill. Sì, no, no, ne manca uno, ne manca uno. C'abbiamo un team qua sotto, regà. Come la risolviamo? Abbiamo un team a sud-est, lontano. Ma in open field c'è già... Sì, gente c'è in open field. C'è gente qua, Wash, dove abbiamo fai dato quegli altri qua. Wash. Appena uscite, è dal muretto, campo di grano adesso. Muretto, campo di grano. Appena uscite, eri in un angolo, il tipo. Ho visto la casa già davanti a noi, mi curo. Quella è la 75, casa già la 75. Da dietro, regà. Dalle finestre, dalle finestre. Dalle finestre. C'è, avete ancora uno dentro il palazzo, regà. C'è, appigliarsi il crossroad, raga. Lo aspetto, lo aspetto io. Qualcuno spari, qualcuno si ferma a sparare. Vai, 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 lo aspetto io. Fatto. Ci sta qualcuno ancora dietro il muretto, regà. Bello, come cazzo l'abbiamo fatto? Bravo. Dove sono? Sono dietro l'albero a sinistra, a sinistra, a sinistra, a sinistra. Quelli? Ecco, lì, forse... Forse dietro l'albero. Sì, è sparato. Quale albero? È dietro. Morto della zona. Dov'è quello a sinistra che ha sparato? Non so quale albero. È morto, è morto, è morto della zona. No, 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 no. Secondo me è un altro, secondo me è un altro giù. Secondo me c'è uno lì dietro. Eccolo. L'albero è S, raga. L'albero è S, quello è S lì. È l'ultimo. Ho visto che c'è un altro. Quale è di due alberi? Bella. Bravi, raga. Mennomale che quello dietro il muro è sparato e è morto dalla zona se non morivo. Mennomale. Io spero vi siate divertiti. Forse siamo dentro al contender. Lo sapremo solo questa notte sul tardi. Non abbiamo altro modo di vederlo se non controllare la leaderboard su PUBG Online quando ci daranno i punti. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto lo streaming. Spero che ci siamo riusciti in questa impresa impossibile. E abbiamo fagappato completamente delle partite. E niente. Speriamo. La storia. Grazie a tutti.